Matteo non potevate mancare qua alla festa dello sport con la tua Lino Team sotto il sole ma felici? Sì, non potevamo mancare la festa dello sport ormai per Lino Team è un appuntamento fisso, immancabile in cui possiamo fare promozione sia della Lino Team sia dello sport e del Jiu Jitsu quindi una grandissima festa promozionale aperta a tutti Tanti bambini che sono venuti nell'area di stare nello sport proprio per divertirsi insieme a voi con i tuoi ragazzi, con le tue spalle? Sì, veramente tantissimi oggi a provare, hanno potuto provare il Jiu Jitsu abbiamo voluto che fossero presenti un po' anche dei nostri ragazzi proprio per permettere a chi provava di vedere degli obiettivi raggiungibili e di poter praticare la nostra disciplina insieme a qualche bimbo della loro età un pochino magari più esperto con qualche conoscenza in più